Il centrale del pomeriggio, Pixel Griff, numero 1, numero 2 per Pantera Pit. Il 7 è Procione Quasimo, questi cavalli più giocati al totalizzatore. Panther Pride, a largo di tutti, fa partenza ed ottiene il comando. Galoppa il numero 2 di Pantera Pit. In seconda posizione si pone Luigi Farina con Pompadour in terza Pixel Griff. Risale per linee esterne anche il favorito Procione Quasimo. Si giunge così ai 400 metri passati in 29,9 con Premier Pride e Paolo Corrado a gestire le operazioni su Pompadour, Pixel Griff, Procione segue Premier Baby e si ricongiunge anche l'otto di Penelope Laser. 46,6 per i 600 con Premier Pride al comando nei confronti di Pompadour. Pixel viene via Procione Quasimo e Procione Quasimo risale per linee esterne e si va piano. E ora Premier Pride deve accelerare perché si fa minaccioso a largo il numero 7 di Procione Quasimo che attacca l'avversario. Risale anche Pixel Griff che appariglia a Pompadour. Chilometro in 18 e Pixel Griff ora sopravanza a Pompadour. Procione si accoda in seconda posizione. E ovviamente l'azione della Saura, Pixel Griff. Intanto Premier Pride allunga su Procione, Pixel e di dentro Pompadour. La lotta dovrebbe passare fra questi quattro. Perde qualche battuta Pixel Griff con Biagio Bevilacqua. Allunga Premier Pride che prende vantaggio. E Premier Pride entra in retta d'arrivo con una di margine su Procione che ci prova. Di dentro c'è Pompadour. Ora stacca Premier Pride e Paolo Corrado viene a concludere su Procione Quasimo mentre per il terzo posto di dentro Premier Baby. Probabilmente fa sua la terza moneta. Quindi vittoria di Premier Pride e Paolo Corrado che vissa in giornata. 2-1,5 la misura cronometrica. Secondo Procione Quasimo e terzo il numero 3 di Premier Brave. 1-15-9 il riferimento cronometrico.